Un'organizzazione di predoni stava terrorizzando i cittadini di Camporreale. 18 furti e 4 incendi dolosi in 5 mesi. Decine di intimidazioni e minacce alle vittime per indurle a non denunciare reati avevano creato un clima di paura nel comune del Palermitano. I sette fermati stanotte dai carabinieri della compagnia di Partinico avevano creato un clima di esasperazione fra i residenti e i commercianti della zona. In manette è finito un gruppo di giovani appartenenti a uno stesso nucleo familiare. Una situazione tanto grave che era finita all'ordine del giorno delle ultime riunioni in Prefettura a Palermo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Stanotte, dopo sei mesi di indagini, coordinato dal sostituto procuratore Enrico Bologna e dall'Aggiunto Ennio Petrini, i militari coordinati dal capitano Marco Pisano hanno messo fine all'incubo vissuto per quasi un anno dai cittadini di Camporreale. Per quattro dei fermati l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al furto e all'estorsione, mentre per gli altri tre i reati contestati a vario titolo sono furto, danneggiamento, estorsione e ricettazione. Secondo gli inquirenti l'associazione a delinquere era formata da due giovani coppie, sposate con figli. Maurizio Moulet, di 26 anni, era il capo dell'organizzazione. Già colpito da provvedimento cautelare della sorveglianza speciale, coordinava da casa i colpi da mettere a segno e le intimidazioni. Chi materialmente seguiva i furti dava fuoco ai furgoni dei commercianti e concorrenti erano Salvatore Lazzara, di 30 anni, cugino di Maurizio Moulet. Le loro donne, Barbara Lombardo, di 33 anni, e Vincenza Ferdico, di 24, erano le sentinelle durante i furti e avevano compiti di logistica durante le azioni, dalla guida delle auto alla custodia dell'area furtiva. Gli altri tre fermati, Francesco Moulet, di 28 anni, Calogero Moulet, di 30 anni, e Vincenzo Moulet, di 25, hanno partecipato solo ad alcuni dei furti o alle azioni di intimidazione. Rubavano di tutti i predoni di Camporreale, dal ferro al rame, dalle olive appena raccolte alle autoradio, dai trapani professionali alle seghe elettriche, dal gasolio per il riscaldamento ai sacchi di pellet per le stufe di casa, dai compressori per gonfiare i pneumatici ai televisori, perfino i rubinetti di casa e gli accessori delle cucine a gas, alcuni bidoni di vernice, pentole, rame, grondaie e ogni cosa potesse poi essere rivenduta. In uno di questi furti si sono impossessati anche di una pistola calibro 7,65, che fortunatamente è stata ritrovata dai carabinieri. Oltre ai furti, il gruppo non voleva concorrenti nella raccolta del ferro vecchio in tutta la zona, un business a cui teneva molto Maurizio Moulet, che in più occasioni ricorda agli altri componenti dell'organizzazione. Quando riavrò la patente, non voglio nessuno che raccolga. Ed è la volontà di eliminare gli altri raccoglitori di ferro che ha portato ai quattro incendi in poche settimane alla fine dello scorso anno. Mi hanno detto di arrostire il pollo, dice la Zara, per confermare a Maurizio Moulet di aver incendiato il furgone Ford Transit di proprietà di uno dei rivali nella raccolta del ferro. La Zara ha eseguito gli ordini di Moulet, ma ha paura che i carabinieri possano risalire a lui e quindi chiama la compagna, vincenza a Ferdico, e le ordina di preparargli il bagno. Preparami l'acqua nella vasca, muoviti però, per cancellare le tracce dell'incendio appena appiccato. L'attività di indagine condotta sul territorio dai militari della stazione di Camporreale ha avuto origine lo scorso autunno, a seguito di una serie di incendi dolosi di autocarri ai danni di alcune piccole ditte individuali, che raccolgono e rivendono il ferro e il rame, con il chiaro intento di intimidirli e scoraggiarne l'attività lavorativa, al fine di acquisire una posizione di monopolio in quel particolare segmento di mercato. L'attività è iniziata grazie a spunti offerti dal territorio e valorizzati dalla stazione di Camporreale, che in maniera pressoché esclusiva ha condotto l'attività di indagine. Quindi il tutto inizia intorno a ottobre 2017, quando una serie di furti e di danneggiamenti a mezzo incendio commessi sul territorio attirano le attenzioni investigative. Si parte da un'attività di indagine che è tese inizialmente ad esplorare un po' la condotta di una delle persone offese e l'indagine nel suo divenire consente di rilevare elementi progressivamente nei confronti di tutti gli appartenenti al suo delizio. Quindi consente di individuare un gruppo criminale che in maniera sempre più rodata e affiatata si era stabilizzato sul territorio, compiendo in maniera sistematica reati predatori, furti in particolare all'interno di abitazioni sia nel centro urbano che in area rurale. I danneggiamenti a mezzo incendio, che sono sostanzialmente quattro quelli documentati, venivano compiuti al fine principale, ma non esclusivo, di intimidire la concorrenza sul territorio rappresentata da imprenditori attivi nel settore della raccolta e vendita di materiale ferroso, settori al quale erano interessati almeno due degli indagati. Purtroppo, ed è questa secondo me la principale conquista del risultato di oggi, che si spera sia consolidato anche dalla vicenda poi dibattimentale, processuale. La popolazione aveva maturato una progressiva sfiducia nei confronti della possibilità da parte delle istituzioni sul territorio di aggredire e risolvere questo problema. Sfiducia combinata anche a timore, anche riscontrata da una serie di episodi di danneggiamento subiti da diversi cittadini, ritenuti colpevoli, non fosse altro che di aver partecipato, aver visto la commissione di alcuni reati o perlomeno di essere sospettati di averli visti. Nel corso dell'attività sono stati documentati tanti furti ai quali comunque non è corrisposta un'attività di denuncia, se non posso, ma perché è ricercata dalle forze dell'ordine in maniera chiaramente intelligente e senza rischiare di esporre le persone offese. Quindi non c'è mai stata, almeno progressivamente verso i primi mesi del 2018 un'attività di denuncia da parte dei cittadini che in quella fase probabilmente non hanno ritenuto che l'arma dei carabinieri o comunque i presidi sul territorio potessero risolvere il problema perché chiaramente erano all'oscuro necessariamente di un'attività che era in divenire. Un regame familiare, che chiaramente è il suo strato su cui si fonda poi anche l'associazione che si è poi delineata. Quindi i due principali indagati sono tra di loro cugini, più altri due fratelli di uno degli indagati erano attivi nella commissione di questi reati e più le rispettive compagne dei primi due indagati principali che abbiamo individuato, cugini tra loro. Abbiamo sia indagati con precedenti, peraltro sempre specifici, quindi reati contro il patrimonio commessi nella stessa area, ma ci sono anche due incensurati, quindi i quali non annoverano né precedenti di polizia né tantomeno penali. Le donne hanno principalmente fiancheggiato l'attività dei rispettivi compagni e degli altri indagati fornendo supporto logistico, quindi occupandosi ad esempio del recupero dell'aria furtiva e anche dei soggetti impegnati nella commissione dei furti. Le intercettazioni hanno messo in evidenza intanto una sistematica attività da parte degli indagati di monitoraggio anche delle forze dell'ordine e in particolare dei carabinieri sul territorio. Quindi prima della commissione dei reati venivano effettuati passaggi in prossimità della caserma dei carabinieri al fine di verificare la presenza di autovetture non solo militari, ma anche private, dei militari che si ricavano in servizio e sulla base di queste considerazioni venivano fatte valutazioni in relazione alla conduzione dei reati, quindi alla possibilità o meno di perfezionarli all'arco temporale in cui la scelta potrebbe essere più pagante e esporre almeno il rischio di essere poi scoperte le forze dell'ordine. Non ci interessa, non mi ha annunciato allora, ma a mio avuto non mi ha annunciato. Non ci interessa. Per ora ci hanno giunto questi anni. Quando ci sono i p***i sotto abbiamo un Nataleale, non è scuro, né giorni né niente, quando non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno di qualsiasi orario. Non c'è nessuna parola. Io ti chiamavo però per dire a te, basta che tu, perché non vorrei parlare e tu parlavi e poi per esempio avverti a chiamare con te, io ti ho riuscito, io a te vengono a chiamare. Hai visto? Non hai visto, forse ho vinto a sonno perché c'è solo una macchina bianca gifta, tipo gifta. E poi tu hai detto cosa chiamare subito? E' in un fatto che è il figlio di gira, qua. Ma io le p***i sono, vado a ripassare, vedo. La sera adesso andiamo a un'altra, e la sera spigliatola. Vedo come vanno a dare a no? Adesso andiamo a qua. Voglio vedere che è buccello che fanno. Tu puoi sapere se voglio a me andare a cambiare, perché ho fulburito. Ah, ecco. Grazie a tutti.